Oggi Telecom Italia non solo è un'azienda di sistema, Telecom Italia rappresenta le fondamenta del sistema. Viviamo in un momento in cui il cambio tecnologico offre infinite opportunità, offre opportunità nel nostro modo di vivere, nel come noi abbiamo a che fare con la tecnologia. Questo succede e potrà succedere grazie alle nostre infrastrutture. Noi siamo un'azienda di tecnologie, un'azienda di investimenti, i primi investitori in Italia, un piano industriale da 10 miliardi in tre anni, nessuno investe in nessun settore tanto quanto noi e siamo un'azienda di strategie, di strategie fatte con disciplina, fatte con metodo, volte a valorizzare le nostre risorse che sono innanzitutto le persone che lavorano con noi, ma poi soprattutto sono volte a creare valore per i nostri azionisti. Queste non sono solo parole, ma sono fatti. Noi i fatti li misuriamo e ad oggi la copertura del turbo band in rete fissa raggiunge il 32% della popolazione, 140 città e raggiunge oltre l'80% della popolazione in 4G, parliamo di oltre 3.600 comuni e non ci fermiamo qua. Siamo presenti in Brasile, un mercato per noi strategico, uno dei più importanti mercanti del mondo, dove noi siamo il secondo operatore mobile, un mercato dove con 76 milioni di clienti noi siamo considerati un'impresa locale famosa per la qualità dei suoi servizi. Telecom Italia ha l'ambizione di guidare il progresso industriale del nostro paese, perché stiamo vivendo un momento straordinario, un momento di incredibili opportunità che offre la tecnologia e le milioni di persone che potranno parlare tra di loro, i miliardi di dati che potranno essere scambiati grazie alle nostre infrastrutture. E per far questo noi ci siamo dati obiettivi ambiziosi, obiettivi che ci porteranno a dare copertura a oltre il 95% della popolazione nelle reti mobili in 4G e oltre il 75% della popolazione italiana nelle reti ultra broadband e in rete fissa. Sono gli obiettivi che porteranno il nostro paese a centrare il traguardo dell'agenda digitale europea al 2020. E per far questo abbiamo bisogno del contributo di tutti, innanzitutto delle nostre persone, ma soprattutto dei nostri clienti e dei nostri azionisti. E lo faremo con metodo e disciplina tenendo conto della sostenibilità industriale e finanziaria delle nostre scelte strategiche. Grazie a tutti.